spettacolo bellissimo venga tu ormai tu hai trovato il fidanzato adesso eh però Paolo è mio eh ho capito no ragazza allora oh chi è il chi è il comandante qua della nave eh quindi la prima boccata la voglio io ma noi e te abbiamo già detto che facevamo a culo al oh ma non sono mica Giulia Uomo Scopati ma cos'è lo use prime noctis ma che cosa vuoi tu scusa la latina ma tu vai a mangiare i bambini vai con la tua bandierina la tua falce il martello vai protesta fai sciopera ma non ce l'hanno sciopera inventati una rottura di coi per andare a lavorare al villa non c'hanno più i bambini però fai una boccia di vodka mangia ti un bambino e sciopera contro qualcuno che avessi mai fatto poi magari mettiti sull'angolo della strada passerà qualcuno che c'è la macchina bella che magari si è fatto un culo così tu è l'altro assassino Luca Alba non sai te robe da comunista va bene dai tu continua con questa noi invece noi non è qualunquista noi invece che siamo dei degli uomini apolitici preferiamo preferiamo buttarci sulle cose più naturali il sesso bravi ragazzi andate a zocco vogliamo scoparci Paolo esatto 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 mi hanno proposto la biondina nella televisione che schifo ma sai che anche a me fa schifo sai che adesso io guardando le foto detto minchia questa è la merda che schifo che schifo senza una forma ma bravo ma vuoi mettere ma quei culi so di ritondi ma che dentro le autoregene con gli occhi azzurri tu vomi con le tette ma buoncare vuoi mettere guarda che bella la bella pancia guarda che bella pancia con le tette che ho io ragazzi vorresti mordicchiare questo capezzolo eh sì però le tette con i peli ma cos'è quella chiazza cioè ti sei tatuato l'africa quelle voglia di mandarti affanculo ma poi passa eh vabbè ragazzi siamo quasi in chiusura ci colleghiamo con wonderland ritornano i griffin